Bentornati a tutti voi su Via della Fede. Approfondiamo insieme il Vangelo di oggi. Dal libro dell'Esodo Così dice il Signore, ecco, io mando un angelo davanti a te per custodirti sul cammino e per farti entrare nel luogo che ho preparato. Abbi rispetto della sua presenza, dà ascolto alla sua voce e non ribellarti a Lui. Egli, infatti, non perdonerebbe la vostra trasgressione, perché il mio nome è in Lui. Se tu dai ascolto alla sua voce e fai quanto ti dirò, io sarò il nemico dei tuoi nemici e l'avversario dei tuoi avversari. Il mio angelo camminerà alla tua testa. Dal Vangelo secondo Matteo In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo «Chi dunque è più grande nel regno dei cieli?» Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse «In verità, io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino costui è il più grande nel regno dei cieli e chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome accoglie me. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Commento al Vangelo Ciao a tutti e ben ritrovati su Via della Fede. Questo mercoledì la prima cosa che voglio fare oggi è davvero dire grazie alle persone che magari mi hanno scritto e sostenuto con la loro preghiera. Vi ringrazio davvero molto tutti quanti perché ne ho bisogno. C'è mamma che non sta tanto bene, quindi non posso che dirvi davvero grazie dal profondo del cuore. Oggi è una giornata un po' particolare perché si festeggia l'Angelo Custode. Dunque che i vostri angeli che guardano sempre il volto del Padre nostro che è nel cielo possano darvi pace e consolazione. Chiediamo anche a loro di farci comprendere meglio queste parole del Vangelo oggi. Cominciamo dunque con il segno della croce. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Concedici, o Paraclito, la tua intelligenza perché mediante questa possiamo comprendere meglio queste parole del Vangelo e avvicinarci al Padre. Padre, donaci anche oggi il tuo amore perché siamo molto bisognosi. Questo Vangelo di Matteo comincia un po' con un discorso umano. Dice in quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendogli chi dunque è più grande nel regno dei cieli? Beh, le mire un po' di ognuno di noi. La domanda è un po' camuffata, ma come facciamo a diventare famosi? Ecco, Gesù l'ha capito bene, si comprende dalla risposta. Ce l'abbiamo nel cuore questa cosa, nell'animo. Non credo sia un male, dipende solo da come lo sappiamo indirizzare. Ma Gesù qui è un maestro e possiamo da un lato guardare noi stessi per cercare di comprendere che valore diamo a questa domanda, quante volte ce la facciamo questa domanda durante la giornata e quale sono le nostre mire per capire meglio chi siamo e dove stiamo andando. Gesù smonta un po' i discepoli e chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse in verità io vi dico se non vi convertirete e non diventerete come i bambini non entrerete nel regno dei cieli. Dunque ci sono due elementi importanti. Il primo è la conversione. Parlare di conversione implicherebbe davvero tantissimo. Cerchiamo di racchiuderla in pochi elementi ma sostanziali. Cosa significa conversione? ci si riferisce a questo con un cambiamento profondo, radicale del cuore, davvero un cambiamento che è in sintonia anche con la mente. Dunque un cambiamento totale della persona. La conversione secondo Gesù implica prima di tutto un pentimento. Ci rendiamo conto quando cominciamo la nostra conversione, di aver sbagliato molto della nostra vita. Dunque siamo pentiti, riconosciamo questi nostri peccati e chiediamo perdono a Dio. Il primo passo verso la conversione e la vita nuova è questo, il perdono. Poi c'è la fede, credere nel Vangelo e accettare Gesù come Salvatore. La fede è fondamentale per questa conversione perché ci fa avere questa fiducia che cresce costantemente ogni giorno verso Gesù. Una fiducia che ci fa comprendere che egli c'è fratello, c'è padre, c'è madre e ci aiuta a vivere meglio la quotidianità di tutti i giorni, a essere più fiducioso sulle cose che ci accadono. Dunque questa conversione ci cambia radicalmente la vita, non guardiamo più le cose con lo stesso occhio. Cioè se ieri qualcosa andava storto magari imprecavamo e rimanevamo tutta la giornata scontenti. Se oggi qualcosa va storto facciamo un sorriso perché fiduciosi in Dio sappiamo che questo è un bene, anche se noi apparentemente non lo vediamo come un bene. Poi c'è quella trasformazione della vita che attesta questa conversione radicale, è un cambiamento interiore che viene riflesso nelle azioni quotidiane che noi facciamo tutti i giorni. Dunque un cambiamento vero in opere significa vivere con valori che sono completamente diversi da quelli che avevamo prima perché Gesù ci dà una scaletta, una priorità per farci comprendere le cose. Con i dieci comandi d'amore noi possiamo riuscire a vedere il mondo con un altro occhio cercando e dando agli altri misericordia e giustizia. Poi c'è questo rinnovamento continuo, cioè questa conversione di cui parla Gesù è una conversione che avviene costantemente ogni giorno, in sostanza non siamo mai arrivati, ma riusciamo a perfezionarsi nel bene. Chi è un convertito difficilmente ha dei dubbi su ciò che è bene o ciò che è male. Nella sua vita questo accade sempre più raramente fino quasi a scomparire. Nella vita di un vero convertito c'è un elemento importante. Ho questo più questo più questo che sono tutti bene, ma qual è la volontà di Dio? Dunque l'inseguire una perfezione nel bene che è una costante crescita verso Gesù e lui ogni giorno ci aiuta e ce la fa comprendere questa conversione e questo rinnovamento, questo avvicinamento a Dio che ci condiziona. E poi c'è questa logica inversa del mondo, no? Se uno guarda il mondo grande è l'imperatore, se guardi Dio grande è il bambino, che allora erano insignificanti, cioè bisogna che noi comprendiamo il contesto in cui vengono scritte queste parole. I bambini allora non servivano a niente, ce n'erano molti, dunque se ce n'era uno in più o uno in meno davvero non faceva differenza. Ma Gesù rivalorizza questa figura all'ennesima potenza, lo mette davvero al centro e vedremo con le parole che dice poi. Dunque ci dobbiamo chiedere ma chi è il bambino? Voi avete visto, no? Tante volte i bambini discutono, litigano, si spingono, ma due secondi dopo si scambiano la merenda e si abbracciano. Hanno un modo di interagire e di relazionarsi che non c'ha doppiezza, non c'ha rancore, non c'ha ipocrisia, ma soltanto quella buona volontà di stare insieme e di fare le cose, anche se tra bambini molte volte c'è questo discorso di primeggiare. Quindi Gesù non esclude l'essere primo, anche nell'ottica di Dio c'è questo, ma è un'ottica completamente invertita rispetto a quella del mondo. È il servo di tutti, è il primo nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è più grande nel regno dei cieli. Ecco, per noi farsi piccoli, non avere rancore, non perdonare, non fermarsi su un'offesa, su una spinta, su un qualcosa realmente successa durante il giorno. È davvero difficilissimo. Sul lavoro, poi quando ti danno una spinta, questa spinta fa quasi sempre ruzzolare e dunque non siamo molto propensi a perdonare coloro che hanno dimostrato palesemente di essere nemici. Ma per un bambino non è così. Dunque Gesù ci invita a questo atteggiamento nuovo del cuore perché quando veniamo offesi il cuore sta male, ci sentiamo male fisicamente e interiormente. Vorremmo avere una rivalsa. Gesù dice non prenderti questa rivalsa perché io che sono la pace ti darò questa pace se tu invece di rispondere all'offesa vieni a me. Ed è qualcosa che chi l'ha provata, questo ve lo garantisco, è una pace molto profonda e quasi non ti importa più niente di tutto il resto. Quindi andare verso Dio ci stacca davvero da queste cose materiali che spesso ci offendono, ci pungolano e ci portano a divisioni fra di noi. Ora, come sempre, il Signore sul piatto della bilancia mette il bene, il piccolo, ci fa vedere il paradiso, come comportarci per andare il paradiso e pone l'attenzione di come finire all'inferno. Perché dico questa cosa? Perché se voi avete letto, avete ascoltato la prima lettura, c'è un pezzo dove dice questo. Abbi rispetto della sua presenza, dà ascolto alla sua voce e non ti ribellare a lui. Egli infatti non perdonerebbe la vostra trasgressione perché il mio nome è in lui. Dunque, l'angelo è un po' una figura che ha la legge di Dio nel cuore e come dice qui nell'Antico Testamento, anche se Gesù ci parla di misericordia, ma noi dobbiamo comprendere che ci dà questa figura e questo sguardo per comprendere che sull'altro piatto della bilancia c'è davvero sempre il fuoco che arde per l'eternità, c'è la lontananza da Dio, c'è la chiusura del paradiso fondamentalmente. Dunque è un avviso importante che il Signore dà a ognuno di noi, ma in questo possiamo guardare un altro aspetto che diventa di estrema importanza, il fatto che comunque Gesù ci mette vicino ad ognuno un angelo custode, un amico celeste, un angelo che se riusciamo ad ascoltare la voce è un amico che mai ci lascia, che ci ricorda le cose, che ci dà un'indicazione, su ciò che dobbiamo fare. Guardate, vi invito anche a scriverlo nei commenti questa cosa, se qualcuno di voi può testimoniare questa cosa, perché io vi dico che, per esempio, quando devo fare delle preghiere, faccio queste preghiere costantemente, regolarmente, se passa quel minuto c'è qualcosa che poi mi ricorda di farla e non c'è sveglia, è come una voce dentro che dice guarda che devi fare questa cosa, che a voi può sembrare una banalità, ma per me è una voce che mi riporta con i piedi per terra a portare nuovamente lo sguardo in cielo. Dunque che la benedizione di Dio sia su di voi, sui vostri cari, sulle vostre famiglie, io vi ringrazio davvero molto, che possiate ascoltare nel senso fisico, non dell'udito, ma diciamo l'abbraccio dell'angelo custode, ecco, in questo senso intendo, per voi e per i vostri cari. Grazie ancora, se potete ricordatevi di me, nelle vostre preghiere e di mia mamma. Noi ci vediamo domani e grazie a tutti e a presto. Grazie a tutti.